Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie. 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 Va pot face si un CD-ROM. Un CD-ROM. Daca aveti... Eu ii sa-i fac un CD-ROM. Pot copia. Bine. Asta e. Asta e. Nu-i nimic. Va poti sa o prindeci pe mare. Asta e. Asta e. Hai. 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 Hai apare. Hai. 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 Monos KIT-o aici ? Si. Ha�. Hai. 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 Ma-ai bine. Serving precastu e. Ha ha. Ha ha. Ha. Ma-ai. Ma-am. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti